Una buona giornata, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Andiamo a Varese per tornare, nove giorni dopo l'assoluzione definitiva incassazione di Stefano Binda, al caso del delitto Macchi. Gli avvocati non sono macchine, c'è chi pensa che siamo senza anima e senza cuore, interessati solo ai soldi, ma non è così. I cinque anni che abbiamo vissuto difendendo Stefano Binda dall'accusa di aver ucciso Lidia Macchi il 5 gennaio 1987 sono stati per noi cinque anni di sofferenza, anche perché all'inizio il sistema della giustizia non ha funzionato come avrebbe dovuto. A parlare sono i difensori di Binda, gli avvocati Patrizio Esposito e Sergio Martelli. Parlano del caso non dal punto di vista tecnico, ma umano, dal punto di vista della loro umanità. Ci vorrebbe un risarcimento anche per gli avvocati, dice Esposito come provocazione. Chiaramente questo risarcimento non è previsto da nessun codice, ma quello per l'imputato, accusato ingiustamente e ingiustamente privato della libertà per tre anni, sei mesi e nove giorni. Quello è previsto e come? Aspetteremo di leggere le motivazioni della decisione della Cassazione, che ha respinto l'ultimo ricorso contro Binda, e poi procedere sarà doveroso, spiegano i legali. Quanto dovrà pagare lo Stato per quello che è successo, ovvero custodia cautelare e tre gradi di giudizio, un ergastolo avarese ribaltato in assoluzione piena a Milano poi confermata a Roma. C'è un tetto massimo che è pari a poco più di mezzo milione di euro e si possono calcolare circa 250 euro per ogni giorno di carcerazione, per un totale di circa 320 mila. L'esito però non è scontato, anzi si prospetta una nuova battaglia. Tutti particolari su Prealpina e su prealpina.it. Nascondeva quattro etti di ascici in una casa situata all'interno di un complesso residenziale di Varese. Il pizzaiolo pusher di 56 anni è finito ai milioni, accompagnato dai poliziotti della squadra mobile di Varese. Stando agli inquirenti, l'uomo, al momento del fermo per un controllo di polizia, si trovava alla guida di un'auto non di sua proprietà. Il fatto che si trattasse di un pregiudicato ha indotto gli agenti ad approfondire l'indagine. All'apparenza non c'era nulla di illegale, ma nella perquisizione sono saltati fuori due mazzi di chiavi sui quali l'uomo non ha voluto dare spiegazioni. Insospettiti, gli investigatori sono così ritornati al luogo dal quale l'uomo era partito, un residence condominiale in Viale Valgan, rintracciando l'abitazione a cui si riferivano le chiavi, dove abita un parente del pregiudicato. La successiva perquisizione ha portato la luce Panetti di Ashish per un peso di circa 400 grammi, i quali, sistemati in un sacchetto di cellophane, erano stati nascosti in un armadio della camera da letto. Il pizzaiolo è così finito in carcere. Torniamo ora al pomeriggio di panico vissuto ieri alla dogana italolvetica di Gaggiolo. C'è una bomba, c'è una bomba in macchina! Ha gridato queste parole l'uomo che poco dopo le 15 ha dato origine al tutto. A bordo di un SUV con targa italiana diretto in Svizzera, il quarantenne di mannate è arrivato al posto di dogana a velocità sostenuta. Quando i finanziari gli hanno intimato l'alta, si è messo a urlare e subito dopo è sceso dall'auto per fuggire, ma è stato prontamente bloccato. Immediatamente dopo, visto l'allarme esplosivo, si è assistito a un fuggifuggio generale. Il mezzo è rimasto dove era, con la portiera aperta, e il confine è stato chiuso in entrambe le direzioni, bloccando sia il traffico turistico sia quello commerciale, oltre alla ferrovia Mendrisio-Varese. Sul posto è intervenuto uno spiegamento di forze con pochi precedenti per la Val Ceresio, in attesa dell'arrivo degli artificieri della Polizia di Stato da Malpensa. I poliziotti antibomba hanno effettuato vari sopralluoghi e analisi del SUV, coadjuvati anche da Tyson e Jasmine, due cani Labrador neri, fiuto esplosivo. Le operazioni hanno tenuto i presenti col fiato sospeso, ma alla fine l'episodio si è risolto con un falso allarme. Solo alle 18.20 l'automobile è stata spostata e dieci minuti dopo è stato riaperto il valico. L'uomo, con precedenti penali, è stato identificato in caserma e accompagnato da un'ambulanza all'ospedale di Circolo di Varese. Nella perquisizione domicilare della sua abitazione, i finanzieri della compagnia di Gaggiolo hanno sequestrato un chilogrammo di marijuana, 55 di hashish e 70 di cocaina. Insomma, in auto la bomba non c'era, ma a casa qualcosa di scottante è stato trovato. E come? Naturalmente per l'intero pomeriggio il traffico nella zona di Cantello è rimasto bloccato. Problemi di traffico, tanto per cambiare, anche all'ingresso di Varese in questa mattinata di sabato. Vediamo il servizio di Pasquale Martinoli. Sono le 11 del mattino, siamo in via Gasparotto, quella che vedete è lo svincolo che dalla bretella scende appunto in via Gasparotto. È una mattinata di disagi, ecco che c'è anche l'ingresso in autostrada di un camion. È una mattinata di disagi per quanto riguarda l'ingresso in città. Non ci sono ragioni particolari legate al cantiere più avanti in via Gasparotto, il cantiere a ridosso della Nuova Selunga. È dovuto al fatto che questa mattina c'è un grande affollamento verso il centro di Varese. Vedete le code lì sulla rampa dell'autolaghi, le code già si sono formate appunto sulla bretella e alcuni automobilisti hanno già segnalato che per entrare in città hanno impiegato questa mattina più di mezz'ora. E per concludere andiamo a Gallarate dove si è spento ieri a 77 anni il giornalista, scrittore e storico locale Elio Bertozzi. Lascia la moglie Giuliana, il figlio Emanuele e gli addorati nipotini Federico e Daniele. I funerali non sono ancora stati fissati ma si tranno probabilmente lunedì 8 febbraio nella Basilica. Per mezzo secolo Bertozzi aveva collaborato con la prealpina che ora si stringe in un ideale abbraccio alla famiglia. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione dell'ora 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.